Bene, buon pomeriggio a tutti, possiamo cominciare? È passato un quarto d'ora, anche per dare il buon esempio, cominciamo con un ragionevole ritardo. Saluto tutti, mi presento, per chi non mi conosce, sono Stefano Lepri, sono il vice capogruppo in regione del Partito Democratico e modero questo dibattito. Alla mia sinistra Luigi Lombardi, che è il presidente del forum delle associazioni familiari del Piemonte, Guido Geninatti, presidente regionale Feder Solidarietà Conf Cooperative, che raccoglie le cooperative sociali di Conf Cooperative, Lucia Centillo, consigliera comunale, presidente della quarta commissione consigliare sanità assistenza e Aldo Garbarini, direttore del sistema educativo e della cultura, coordina le due direzioni cultura e sistema educativo, in modo particolare direttore del sistema educativo al comune di Torino. Quindi abbiamo, come avete visto, quattro interlocutori di grande esperienza, grande ruolo anche, che sono chiamati a rivestire, quindi credo che sarà sicuramente un dibattito importante. A me tocca provare a sfidare anche, diciamo, il palco assai più attraente, almeno per le persone anziane, che è quello che ci disturba anche un po'. Chissà se magari possiamo ottenere di avere un briciolino più di musica, più low profile, perché sennò rischiamo di non sentirci neanche tra noi. Ecco, dicevo, dibattito importante che abbiamo anche un po' voluto nella discussione che ha definito il programma, perché il tema della famiglia, delle famiglie e della genitorialità è un tema importante che molti di noi abbiamo ritenuto non potesse mancare alla discussione della nostra festa. Io posso introdurre dicendo che la famiglia o le famiglie, io credo che in questa sede forse non è così decisivo distinguere e fare una riflessione, peraltro è importante, su che cosa intendiamo per famiglia. Per quanto mi riguarda io sono fermo alla Costituzione, all'articolo 29, cioè alla famiglia fondata sul matrimonio, ma so che nel mio partito ci sono legittime opinioni che ampliano l'idea di famiglia, estendendola anche alle persone stabilmente conviventi e anche una buona parte, non so se maggioritario o meno, del mio partito ritiene che sia possibile anche estendere la definizione di matrimonio, in una prospettiva futura anche alle coppie omosessuali, ma credo che questo non sia, almeno penso per quanto ritengo, avendo la responsabilità di moderare questo dibattito, che non dovremmo oggi discutere particolarmente di questa questione, peraltro non irrilevante e cercherei di soffermare la nostra riflessione su come sta la famiglia o come stanno le famiglie e su come sta, passatemi il termine, il ruolo genitoriale, quindi il mestiere difficile dell'essere genitori oggi in Italia, nella nostra regione e anche nella nostra provincia città di Torino. Quindi sono queste un po' le due questioni su cui vorrei focalizzare il nostro dibattito. Partendo quindi dalla prima riflessione, oggi l'idea di famiglia intesa in senso più rigoroso o più esteso, cioè una coppia che stabilmente convive assumendosi degli impegni tra cui quello della genitorialità, assumendo diritti e doveri sanciti in modo più o meno formale, è obiettivamente in crisi, lo dicono le statistiche ufficiali, quelle che registrano un numero via via decrescente di matrimoni, lo dice il numero crescente di separazioni e di divorzi, lo dice probabilmente una, diciamo, più instabile decisione tra uomini e donne di definire appunto percorsi continuativi di stabilità nelle loro relazioni affettive. Ma questa difficoltà che è indiscutibile, che è frutto insomma della statistica, che non può essere certamente messo in discussione, non credo che la politica possa considerarlo un dato ineludibile, anche se evidentemente le scelte che riguardano appunto l'affettività e la decisione di mettere al mondo dei figli, di stabilire una relazione continuativa e potenzialmente per tutta la vita tra un uomo e una donna, evidentemente sono scelte largamente private, ma certo vi è una dimensione pubblica, quindi la politica non si può disinteressare di queste scelte, ma deve in qualche modo, nel rispetto evidentemente delle decisioni individuali, perché queste sono centrali, decidere se vuole esercitare una politica. Io penso che la politica, i partiti e il nostro partito possano, debbano svolgere un ruolo attivo, cioè penso in sostanza che, ripeto, nel rispetto alle decisioni individuali, la scelta di costituire una famiglia sia un fatto assolutamente positivo, lo dice la Costituzione, lo dicono testi ben più significative delle mie poche e modeste parole, quindi il tema è esattamente questo, la politica come guarda la famiglia e il nostro partito come deve guardare la famiglia in modo neutrale o può o deve esercitare invece una funzione positiva nel rispetto delle scelte individuali e di coppia, ecco questo credo che sia un po' il primo tema su cui possiamo discutere, quindi partirei da sinistra con Luigi Lombardi, che è particolarmente esperto di questo tema e che ci dice la sua. Cinque minuti per uno perché cercherei di essere molto, diciamo, pimpante negli interventi piuttosto che... Grazie Stefano, grazie per avermi invitato in questa occasione d'incontro, grazie anche a voi che siete qui presenti e un benvenuto anche da parte mia. è solo una brevissima presentazione del forum delle associazioni familiari, il forum delle associazioni familiari è un'associazione di associazioni che si interessano di famiglia o sono composte da famiglie. In questo momento in Piemonte siamo 23 associazioni a livello piemontese che ci ritroviamo insieme a affrontare questi temi e a cercare il confronto anche con la politica su questi temi. A livello nazionale 51 associazioni che realizzano lo stesso obiettivo, quindi cercare prima di tutto di fare famiglia tra di noi e di avere una visione, un'idea comune da portare avanti. Sicuramente Stefano mi ha lanciato una serie di provocazioni. Io vorrei fare, prima di tutto dire una cosa, in questo momento all'interno diciamo di questa famiglia genitorialità, di quello che ha detto Stefano, cogliamo subito un primo aspetto, che io posso smettere di essere marito, moglie, convivente, ma non posso smettere di essere papà o mamma. La genitorialità è comunque una scelta per sempre, a prescindere poi da quello che fanno il papà e la mamma nel rapporto tra di loro. E questo però cosa vuol dire? Vuol dire che, esagerando, a noi in Italia manca un qualche parola, nel senso che in questo momento la famiglia è il posto dove ci si vuole bene, quindi come fai a dire a delle persone che si vogliono bene, che si però voi non siete famiglia. E quindi ci manca proprio un po' il vocabolario per tenere distinta quello che qualcuno chiama la famiglia normocostituita, dalle altre scelte a volte subite, per cui ti trovi a fare altre, a decidere diversamente di come comporre il rapporto effettivo. E questo chiaramente crea anche la difficoltà terminologica, perché, come fai a dire, la Costituzione riconosce la famiglia, e quindi la politica si deve occupare della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio, e però nello stesso tempo non può disinteressarsi delle altre, a questo punto uso anch'io il termine, delle altre famiglie. Allora forse qui il tema è veramente delicato, perché poi parlando giuridicamente, chiaramente abbiamo anche sentenze che dicono che la famiglia in Italia è quella stabilita dalla Costituzione. Articolo 29, il matrimonio tra uomo e una donna, e forse va un po' chiarito cos'è, magari sgombrando il campo dell'ideologia, cioè il matrimonio non è mettere la firma sul contratto così siamo a posto, e il modo con cui io pubblicamente dico noi due ci vogliamo bene, abbiamo il progetto di volerci bene per sempre, fatemi usare questa parola, e quindi ci affacciamo alla società. La società si aspetta una serie di compiti, diritti, di doveri che i coniugi si assumono in quella situazione. Nelle altre situazioni, e non sto a dire se per scelta e non scelta, quindi non entro nel merito del perché uno faccia questa scelta, manca, diciamo, questo atto pubblico. E la domanda che io mi faccio è, sempre duplice a questo punto, ma quelli che sono sposati, che cosa dicono del loro matrimonio? Come lo evidenziano? C'è davvero questo loro matrimonio e quel patto di amore per sempre? O è la famosa battuta del matrimonio, adesso anche tu hai le catene e cose di questo tipo? Allora poi è difficile pretendere che uno abbia un'immagine positiva della famiglia fondata sul matrimonio. L'altra cosa è che oggi in Italia, se mi passate questo termine, faccio anch'io la mia provocazione, forse conviene non sposarsi. Perché se io mi sposo cominciamo a accumulare i redditi, cominciamo a... Quando facciamo l'ISEE siamo fregati, quando vado a iscrivere il bambino al nido, eh ma tu sei sposato, quindi giustamente la priorità viene data a chi non può contare su un compagno, che però magari ce l'ha perché è convivente. Allora c'è un po' di situazioni che vanno create, c'è anche forse da ragionare un po' su quale clima creiamo. Buttando già forse un passo in avanti su questo, ritornando sulla genitorialità, è un tema sicuramente difficile che riguarda tutti, indipendentemente dalla forma con cui hanno scelto. e forse una delle preoccupazioni che io colgo di più rispetto al tema delle generalità è la prima in tutto l'insicurezza. Cioè abbiamo i giovani genitori che non sanno bene come maneggiare questi figli e spesso ne sono un po' terrorizzati o schiavi. E allora le scuole di genitori che sono nate sono anche sostenute, o quantomeno, sempre un po' meno sostenute, per esempio dal Comune di Torino e dall'ente pubblico, sostenute dalla collaborazione delle associazioni che le promuovono, sono sicuramente un aspetto importante. L'altro elemento importante è che i genitori sentono il bisogno di una scuola che funzioni, che sia in grado in qualche modo di aiutarli in questa educazione, in un'alleanza educativa, come si dice adesso, tra scuola e famiglia, cosa che non sempre avviene. E c'è una preoccupazione di fondo quando uno mette al mondo un figlio, in particolar modo oggi, è quale futuro sto preparando per mio figlio. Allora una richiesta sicuramente forte alla politica è se riconosci che i figli sono un bene per il futuro, intanto comincia a riconoscerli anche dal punto di vista fiscale, per esempio. Per cui non deve essere quasi indifferente avere tre figli, averne uno o averne nessuno, quando vado a pagare l'IRPEF, quando ce l'ho trattenuto sul cedolino. Ci deve essere una differenza, si deve sentire. E stessa cosa poi può valere per l'ISE. Io penso che come inizio, guardate io, mi modero da solo e cinque minuti sono passati, così dobbiamo poi... Possiamo arricchire il dibattito. Ah, tocca a me. Ma intanto grazie Stefano per l'invito, sono Guido Geninatti, presidente di Feders Solidarietà, in due parole, sono le cooperative sociali aderenti a conf cooperative, sono circa 350 in tutto il Piemonte, e la nostra attività è quella di rappresentare e sostenere il movimento delle cooperative sociali. Sono realtà senza scopo di lucro, che però hanno via via negli anni avuto un ruolo importante, proprio anche nella realizzazione dei servizi sociali, sanitari ed educativi. Ciò detto, io parlando, come dire, ragionando su questo tema, direi che ci sono alcuni elementi, come dire, che riguardano i bisogni, che sono abbastanza centrali. Chi mi ha preceduto, già ne ha ricordati qualcuno, io non voglio fare un'analisi perché non c'è tempo, ma se sicuramente parliamo delle famiglie, ed è assolutamente questa l'accezione che ormai dobbiamo prendere in considerazione, io temo che noi registriamo anche molte inadeguatezze nel nostro paese. Inadeguatezze dal punto di vista proprio anche delle politiche a sostegno delle famiglie. Alla famiglia si chiede di tutto, si chiede di farsi carico di tutti i ruoli educativi che un tempo, ad esempio, erano assicurati anche dalla scuola, ma di farsi carico anche dei problemi reddituali, perché la disoccupazione giovanile è a certi livelli, o anche, sappiamo bene le difficoltà, se abbiamo una persona anziana o una persona con disabilità, in casa il carico assistenziale pesa molto sulla famiglia. Allora io penso che un primo elemento di analisi che ci dobbiamo dire onestamente è che noi abbiamo delle politiche a livello, come dire, di taglia, di paese, vecchie, arretrate e inadeguate. Ci tocca andare in Francia per vedere delle politiche fiscali, delle politiche di sostegno alla famiglia, che sono politiche vere, strutturate, corpose. Le nostre sono sempre, come dire, un po' di risulta, mettiamo insieme dei pezzi e poi vediamo un pochettino che cosa succede. Faccio un altro esempio. Chiacchieravamo prima col dottor Garbarini, la legge sugli asili nido nella nostra regione degli anni settanta. Ma ci rendiamo conto che gli anni settanta erano un altro mondo rispetto a quello che noi viviamo adesso, eppure il nostro impianto normativo è ancora quello lì, per i nidi e le politiche dell'infanzia sono, come dire, centrali rispetto al sostegno alla famiglia. Ora, io voglio però anche dire, come dire, che il bicchiere è sempre, nel mio modo anche di affrontare la vita, mezzo pieno, non è solo mezzo vuoto. E allora sono convinto che nel nostro territorio, nella nostra città, abbiamo in realtà anche moltissime risorse positive. Ma anche se guardo semplicemente al mio interno, al mondo della cooperazione sociale, ci sono centinaia di servizi che le cooperative hanno via via negli anni messi in piedi. E vanno dagli asili nido, ai micronidi, ai centri gioco per le famiglie, tutti luoghi dove si possono fare molte cose. Allora, si può gestire un nido come se fosse la famiglia, un utente che arriva lì e gli faccio un ottimo servizio, o lo si può gestire coinvolgendola, e magari facendosi carico anche di altri problemi che ha quella famiglia. Perché la relazionalità e la vicinanza fanno quel sostegno che è fondamentale. Ecco, io penso, magari poi vado avanti nell'intervento dopo, però che la politica non possa disinteressarsi, anche per rispondere a Stefano, e non possa avere un ruolo che ritengo è troppo passivo nei confronti di ciò che invece deve essere un sostegno alla famiglia. Perché la famiglia, o meglio le famiglie, non ce la fanno quasi più. Tra un po', la famiglia intesa come, ritengo eccessivamente, come un ammortizzatore sociale, dove si scaricano poi tutta una serie di problemi, non ce la fa più. E il collega prima ci dava alcuni esempi. Mi riservo un intervento anche un po' più propositivo per dopo, per capire come invece rilanciare una dimensione. Grazie Guido. Lucia. Grazie Stefano, ma io credo che i termini famiglia, il termine genitorialità, possano essere sviluppati secondo concezioni molto diverse, nel senso che possiamo affrontarli con una lente sociologica, con una lente legislativa, con una lente scientifica e a seconda di come l'affrontiamo, vediamo delle sfaccettature completamente diverse. Io provo semplicemente a dare per titoli alcune suggestioni di tipo politico. Allora, chiaramente la famiglia, le famiglie, io preferisco sempre in ogni circostanza parlare di famiglie, dal punto di vista politico, seguono molto quello che è l'andamento sociale. Spesso il legislatore arriva dopo nel fare delle scelte legislative quando la società ha già realizzato e riprodotto delle condizioni sociali di un certo tipo. Quindi io credo che faccia molto bene il Partito Democratico ad affrontare questi temi e anche a sviluppare delle proposte di legge. Io invito tutti ad andare sul sito a vedere, per esempio, la proposta di legge scritta in particolare dalle parlamentari. Noi l'affronteremo in parte anche sabato mattina alle 10 alla presenza di Roberta Agostini, portavoce nazionale delle donne. Io svolgo il ruolo di portavoce regionale delle donne. Ecco, io credo che intanto vedere quelle che sono le proposte del Partito Democratico, una legge per la famiglia, una legge che consenta veramente ai nostri giovani di pensare che si possa investire nelle famiglie, che si possa pensare di avere figli, perché oggi come oggi moltissime donne, moltissime coppie pensano di non poter soddisfare un'esigenza, un bisogno, un desiderio che quello di avere figli, perché la crisi, il reddito, la carenza di lavoro, l'Italia ha circa 15 punti in meno rispetto al resto d'Europa sull'occupazione femminile, con un divario enorme tra nord e sud. Ora, io dicevo, il Partito Democratico ha su questo fatto delle proposte molto interessanti, ne cito una apparentemente minimale. riguarda, per esempio, per il padre, per il mio papà, la possibilità, l'obbligo, quello che aveva chiesto il Partito Democratico, l'obbligo di avere il congedo di paternità per 15 giorni. Cioè, quando nasce un bimbo o una bimba, 15 giorni a casa, per un papà significa, ovviamente, una responsabilità precoce, una relazione importante, significativa, che si consolida con una presenza sia nella coppia, sia con il nascituro, molto forte. Ovviamente 15 giorni, dal punto di vista economico, sono una cosa notevole. Da lì a ciò che è stato fatto, invece, nella legge, che è quello di avere un giorno, è sensibile fino a tre, che però viene tolto, il secondo e il terzo giorno vengono tolti dal congedo di maternità, ecco, io credo che questo Paese, quando dice che vuole investire sulla famiglia, anziché scontrarsi ideologicamente su cosa si intende, famiglia fondata sul matrimonio, piuttosto che le famiglie, con tante altre caratteristiche, sapendo che la fotografia della realtà e che le famiglie sono sempre più complesse, perché ci sono coppie che si separano, nuovi nuclei che si formano, ci sono le famiglie miste, famiglie miste miste, che sono quelle fatte da nuove cittadinanze, magari di origini diverse, che creano un nucleo nella nostra città. Ecco, allora, do questi stimoli per dire che o noi investiamo veramente, uno, sul lavoro delle donne, perché là dove c'è lavoro e autonomia da parte delle donne c'è anche più natalità, è una società che non ha nuovi nati o che affida ai nuovi cittadini la possibilità di avere una crescita superiore allo zero, è una società che non investe davvero sul futuro. Politiche di conciliazione, quindi oltre che politiche attive per il lavoro femminile, politiche di conciliazione, io denuncio il fatto, perché mi sono state dette recentemente queste informazioni, che cominciano a esserci dei comuni dove i posti disponibili per i nidi sono inferiori, cioè le domande sono inferiori ai posti disponibili per i nidi. È una cosa che ci deve fare interrogare, non riguarda in questo caso la città di Torino, ma ci sono dei comuni che hanno investito molto nella realtà di avere... No, no, non riguarda la città di Torino subito, però siccome questa è la fiesta provinciale mi sembra giusto riportare questo dato. È una tendenza della quale noi dobbiamo assolutamente farci carico. L'altra cosa che voglio dire è che il welfare in questo paese si è sempre posato prevalentemente su una gamba che è la gamba della famiglia. Ora, se le famiglie e i familiari non si devono deresponsabilizzare rispetto a un proprio congiunto, guardiamo il caso della genitorialità, ma anche il bambino che cresce, il figlio che cresce e che si deve occupare, in particolare nel lavoro di cura, le donne si occupano sia dei bimbi sia degli anziani. Ecco, questo aspetto qui è un aspetto che la politica deve assolutamente prendere in considerazione, sapendo, e chiudo su questo, che le risorse che sono state messe a disposizione sono sempre inferiori, che per esempio per i nostri servizi, poi Garbarini su questo è maestro, per i nostri servizi nella città di Torino, anche Lepri quando era assessore ha lavorato molto su questo, molti servizi sono nati grazie alla legge 285, la legge turco, al fatto che per la prima volta fossero messi dei soldi sulle politiche per l'infanzia. E quindi credo che o noi ritroviamo la possibilità di avere delle risorse con delle modalità diverse che potrebbero necessariamente essere quelle che arrivano dallo Stato e dalle tasse, ma se si pagano le tasse e abbiamo una pressione fiscale del 55%, non è pensabile che non ci sia un ritorno. Quindi ripensiamo all'intero sistema, non possono le famiglie essere chiamate in causa sempre e solo per pagare e per farsi carico di servizi che è sempre di più difficile sostenere con i tagli che ci sono, pensiamo tutta la non autosufficienza, pensiamo appunto le politiche per l'infanzia, pensiamo al fatto che nella provincia di Torino sono moltissime le donne che lasciano il posto di lavoro a ridosso del primo anno di vita del bambino e che esiste, chiudo davvero, il problema delle dimissioni volontarie, cioè che vengono fatte firmare alle donne, che vengono assunte, fogli di dimissioni in bianco prima, all'atto dell'assunzione, in modo da poter avere carta bianca nel momento in cui si decide di licenziarle, magari proprio perché sono in gravidanza. Non riguarda solo le donne, ma è un fenomeno che riguarda prevalentemente le donne e prevalentemente la maternità. Grazie. Ma io parto da due, da un dato statistico. è ormai assodato da alcuni anni, rilevato dall'Istat, che laddove è aumentata l'offerta di asili nido c'è una tendenza all'aumento dell'occupazione femminile e all'aumento delle natalità. Questo è un dato che credo possa già dare un minimo di indicazione, che sta anche nei ragionamenti di chi mi ha preceduto, cioè in qualche modo la difficoltà, diciamo, dei genitori, in questo senso ovviamente lavorando con i nidi e con le scuole dell'infanzia noi ci troviamo di fronte a delle famiglie articolate, per quanto si diceva già prima, e soprattutto di fronte a genitori. Ecco, io credo che uno dei primi problemi delle difficoltà in cui oggi i genitori si ritrovano è quello di poter avere dei sistemi di supporto alla genitorialità. che partono ovviamente dalla sicurezza di avere dei servizi che rispondono ad alcune esigenze primarie. Questo dato, ripeto, ci deve fare un attimo riflettere, perché vuol dire che laddove si è riusciti a essere in qualche modo virtuosi e negli anni scorsi a potenziare l'offerta, diciamo almeno verso lo 0,3 e anche più in generale verso lo 0,6, questo ha voluto dire che in qualche modo quel contesto sociale e economico di cui si diceva è stato in qualche modo sostenuto nelle proprie esigenze. Un altro dato, anche qua recente, che ha fatto sì che l'Ista poi lo togliesse da una delle proprie dinamiche, era di rilevamento dei dati nazionali, era che laddove aumentano i servizi verso lo 0,3, e in particolare aumentano i lidi, aumentano le liste d'attesa. Cioè, sembra una contraddizione, ma più una città eroga un servizio nei confronti della prima infanzia e più la domanda di quel servizio aumenta. Il che vuol dire che c'è comunque, e credo confermi il primo dato che dicevo, che c'è comunque una richiesta delle famiglie e dei genitori in quanto tali di essere in qualche modo supportati rispetto al cammino nel rapporto con i propri figli. Che vuol dire, certo, in parte il sostegno e l'aiuto che avere un bambino inserito in un nido può dare ai genitori per la ricerca del lavoro, per poter lavorare, eccetera. Ma anche rispetto a quella difficoltà genitoriale educativa di cui si accennava prima. Io credo che oggi, qualche anno fa, avevo sentito l'affermazione, come dire, di alcuni esperti che parlavano di un'anoressia educativa, cioè sostanzialmente un abbandono educativo da parte delle famiglie. Io credo che invece oggi il problema delle famiglie sia, se volete, di una bulimia educativa. Cioè i genitori oggi tendono a volere giustamente, ancora più dei tempi addietro, entrare nel merito dei processi educativi nei confronti dei propri figli, ma in un contesto di difficoltà poi a leggere quali possono essere i processi educativi corretti e concreti. E quindi, in quanto tale, l'incontro con i servizi sin dalla primissima infanzia può essere invece un sostegno forte alla stessa genitorialità, oltre che al bambino e lo sviluppo educativo del bambino. La seconda sensazione che vorrei lasciare in questo primo passaggio è questo. Noi forse dobbiamo anche iniziare a ragionare nei termini di cosa oggi sono le famiglie o i genitori, uso questo senso più lato per affrontare quel ragionamento che faceva Stefano lei prima, cioè chi è che poi compone la famiglia. Adesso non entriamo nel merito, credo che appunto almeno dal mio osservatorio il concetto di famiglia si stia ovviamente più allargando rispetto a quello che era il concetto di famiglia tradizionale. Ma se guardo i genitori, credo che noi dobbiamo anche iniziare a ragionare in qualche modo sulla modifica della genitorialità, che non è fatta solo dal fatto che si introntri un uomo, donna o altri soggetti nella composizione del nucleo genitoriale, ma nel fatto che in questo tipo di società oggi la famiglia inizia a esprimere delle esigenze che non sono più, come dire, quelle con cui ci confrontavamo fino a pochi anni fa. Faccio un esempio che calza la storia torinese. È evidente che la famiglia o i genitori che comunque erano legati alla produzione in fabbrica necessitavano di alcuni servizi erogabili e, lo dico per capirci, esemplificabili nel nido tradizionale, come siamo comunemente abituati a pensare, oggi un nucleo familiare di cui magari un genitore ha un lavoro flessibile che può cambiare in continuazione e un altro genitore magari ha un lavoro serale, necessita probabilmente dell'erogazione di servizi che in qualche modo non sono più quelli a cui siamo abitualmente orientati a pensare. E quindi uno degli sforzi che credo, anche come pubblica amministrazione, dobbiamo iniziare a fare è provare a ragionare se i modelli con cui oggi noi produciamo e offriamo servizi sono ancora quelli idonei o se questi modelli in parte vanno cambiati o vanno comunque accompagnati con forme nuove di offerta che tenga conto di quello che è l'effettiva esigenza. Per riprendere un elemento che diceva prima, però certo è che comunque se non c'è una politica di sostegno a welfare in generale, perché poi noi abbiamo di fronte anche famiglie o genitori che da una parte sono pressati dall'esigenza di poter avere una risposta ai propri figli, ma magari pressati dall'esigenza di rispondere ai propri genitori che sono ormai diventati anziani che quindi hanno bisogno di determinati interventi, ecco se noi non riusciamo ad adottare il welfare in qualche modo delle risorse, non tanto per darle, ragionandoci sopra, ma di risorse funzionali a queste risposte, ecco se non c'è una politica che in qualche modo sostiene questo, se come diceva prima appunto Lucia, noi ormai ci troviamo di fronte a uno Stato che dopo l'ultima erogazione diciamo al governo c'era ancora la bindi di fondo nei confronti dei nidi, non si è visto più nulla e quindi i comuni ormai, come dire, latitano nella possibilità di ricevere risorse a sostegno, credo che in qualche modo questi discorsi diventino difficili. Bene, vi ho fatto un bel primo giro, vi ringrazio perché siamo stati bravi, provo a entrare un po' più nel merito, anche se già gli interventi hanno fatto parecchi esempi. Anzitutto mi pare che da voi sia emersa la conferma dell'importanza del ruolo della politica nel favorire le famiglie e la genitorialità, su questo mi pare non vi siano discussioni e approfondiremo soprattutto questo tema. Io però non voglio lasciare perlomeno questa, non voglio fare a meno di lasciare perlomeno questo ulteriore stimolo che diciamo è precedente il ruolo che una pubblica amministrazione, un servizio sanitario, un servizio educativo possono assicurare come sostegno alla famiglia, cioè l'idea che il nucleo familiare, in modo particolare quello fondato sul matrimonio e quindi sull'impegno di una stabilità affettiva, ha una sua dignità, una sua originalità, una sua potenzialità che va assolutamente riconosciuta e poi sostenuta, ma ancora prima riconosciuta. Ecco, questo impegno potenzialmente per sempre di aiuto tra i congi, di impegno ad una attività educativa, genitoriale continuativa, sono ricchezze per una società che in qualche modo la fondano e su questo io credo che il partito e la politica non possa non riprendere una riflessione perché il non riconoscere l'importanza e non premiare l'importanza della stabilità affettiva e della stabilità diciamo nel ruolo educativo rischia magari inconsapevolmente di determinare comportamenti diciamo orientati invece alla precarietà. detto questo ma mi rendo conto che è un'opinione non necessariamente condivisa voglio provare ad entrare più nel merito invece del ruolo che la politica può esercitare non solo semplicemente riconoscendo questo ruolo così importante che è quello genitoriale ma anche promuovendolo e sostenendolo. si è detto, lo ha detto in modo particolare Luigi Lombardi che occorrono interventi diciamo di livello nazionale che in questa sede forse ci interessano relativamente, non nel senso che non ne possiamo parlare ma che poi insomma nel senso che la questione attiene a livelli amministrativi di livello superiore, appunto quelli del governo e del Parlamento, detrazioni fiscali, una politica di sostegno alla natalità che sia il quoziente familiare che il nostro partito ragionevolmente ritiene non convincente perché probabilmente diciamo avvantaggia le fasce di reddito alto o altre forme che invece sono più convincenti come quello di un bonus in denaro che può essere riconosciuto fino a una certa soglia di reddito e patrimonio e i congedi parentali nelle diverse forme che sono state qui sommariamente ricordate mi sembrano che siano questi due i capisaldi su cui la politica nazionale dovrebbe fondarsi rilanciare il tema della fiscalità e il tema delle forme attraverso cui la fiscalità e il sistema previdenziale consentono ai genitori di potersi dedicare in modo particolare nella fascia della primissima infanzia al compito genitoriale. Ma invece quali sono le possibilità che una pubblica amministrazione regionale, provinciale, comunale può esercitare per sostenere la famiglia e la genitorialità. Ecco io credo che in sostanza se come mi sembra almeno personalmente indiscutibile il ruolo della famiglia è insostituibile, va valorizzato, il compito dello Stato, posso dirlo così anche con un gioco di parole, lo Stato e le amministrazioni locali dovrebbe essere quello di dare sollievo più che sollevare le famiglie, dare sollievo più che sollevare vuol dire in sostanza riconoscere opportunità, servizi ma anche fare in modo che i genitori siano sempre più in grado di fare il mestiere difficile del genitore e anche del coniuge del marito e della moglie o comunque del compagno o della compagna in una forma potenzialmente stabile per sempre. Allora questa sfida come si concretizza? Il Comune di Torino per esempio da alcuni anni sostiene dei centri per le famiglie che sono dei luoghi attraverso cui, nei quali si può anche imparare a fare meglio i genitori, si può anche imparare ad essere meglio coppia, si possono superare i momenti di crisi all'interno della coppia, si può imparare ad affrontare le situazioni difficili per esempio che riguardano il rapporto tra genitori e figli adolescenti. Le forme sono tante, i centri per le famiglie, gli spazi genitori anche all'interno per esempio dei nidi delle scuole materne. Ecco, concentriamoci un po' su questo tema prima di magari approfondire il tema dei servizi più strutturati come possono essere i servizi per la prima infanzia 03 o 35 e dedichiamo questo secondo giro a questo tema, cioè a come una pubblica amministrazione può affrontare la sfida della genitorialità e la sfida anche del sostegno alla famiglia che poi autonomamente esercita anche un suo ruolo educativo maieutico di costruzione di relazioni significative primarie come può farlo nel rispetto del ruolo e dell'originità della famiglia. Ho fatto questi esempi, gli spazi genitori, i centri per le famiglie perché mi pare che questa sia una sfida ancora largamente inesplorata all'interno anche della nostra amministrazione comunale, dei comuni della nostra provincia ma che invece mi pare cruciale. Cambiamo l'ordine tanto per quindi Aldo. Sicuramente in parte riprende anche la riflessione che facevo prima, cioè io credo che oggi ci sia bisogno di ragionare sul modalità anche nuove e diverse di offerta di servizi, il che vuol dire ripeto non sostenere solamente come dire un'esigenza immediata ma ha quel supporto, ha l'elemento di generatorialità di cui si diceva prima. Io penso due cose, primo, poi lo riprenderò perché probabilmente Stefano ci richiamerà anche questo, io comunque continuo a pensare che noi non possiamo eludere la questione di quali sono in realtà i sostegni economici che operazioni di questo tipo possono essere messi in campo e non possiamo abbandonare gli enti locali o la regione a un compito come dire di supplenza, quasi si diceva di supplenza di secondo livello rispetto agli interventi che dovrebbero essere messi in campo perché comunque questo tentativo di aprire dei servizi quali centri famiglie, spazi incontri, servizi di avere famiglie bambini eccetera eccetera sono comunque elementi in qualche modo costosi se si vogliono avere delle offerte di qualità perché io credo che per le cose che sono state dette anche prima noi dobbiamo fare dei ragionamenti sull'erogazione di servizi che ripeto non sono solo di badanza perché quello probabilmente lo risolveremmo in fretta il fatto di tenere un bambino per otto ore perché intanto i genitori lavorano da qualche altra parte. Noi abbiamo bisogno di servizi che erano in qualità sia nei confronti ovviamente del processo di crescita dei bambini e servizi di qualità perché sono sostegno proprio anche di quelle domande da parte delle famiglie di cui si diceva prima. Quindi non dobbiamo sottovalutare come dire il valore dei saperi che all'interno di questi servizi possiamo andare a mettere. Io credo in secondo luogo che oggi probabilmente ci sia il problema all'interno dell'elaborazione di nuove risposte al tema della genitorialità delle famiglie di cui si diceva prima di studiare anche forme di corresponsabilità, di coinvolgimento maggiore da parte dei genitori e delle famiglie stesse in parte nell'elaborazione ma anche nella gestione stessa di questi spazi. Se volete un po' è la storia di come nacquero i nidi in Italia subito dopo la resistenza nell'Emilia-Romagna quando furono le donne della resistenza e le famiglie della resistenza che iniziano ad aprire come dire una forma di automutuo aiuto tra donne e famiglie che poi diventarono storicamente gli asili nido così come oggi l'Italia l'ha conosciuto e li conosce. Quindi credo che probabilmente noi dovremmo anche qui aprire veramente un grande discorso che può essere come dire anche nell'immaginario del partito per ragionare su quali possono essere quelle forme che in qualche modo possono coinvolgere di nuovo recuperando un concetto di solidarietà nel senso alto del termine per cui non è come dire venite ad aiutarci a gestire perché oggi non abbiamo più soldi allora se venite anche voi costa un po' meno la gestione dello spazio ma anche perché probabilmente l'elaborare insieme ci può permettere di ragionare meglio su quali possono essere appunto quei servizi che vanno oltre e accompagnano il nido come siamo comunemente abituati a pensare. Grazie. Ma penso che la genitorialità, essere genitore non significa, non è un dato solo anagrafico, un dato biologico, è molto più complesso e ovviamente a seconda del luogo dove si vive, della società in cui si vive soprattutto della rete che c'è intorno al genitore che sia una rete parentale, una rete amicale o una rete di servizi si sviluppano per quei genitori e per quei bambini e per quelle bambine delle prospettive di vita completamente diverse. Penso a uno studio fatto a New York che ha durato 18 anni dove bambini particolarmente a rischio sono stati inseriti al nido precocemente e quei bambini lì rispetto ai loro coetanei non inseriti al nido hanno sviluppato meno devianze, meno tossicodipendenza. Ecco quindi c'è anche dal punto di vista proprio sociale, politico, una necessità di sviluppare servizi che siano uno inclusivi, due che sostengano ma che rispettino le libertà delle persone di fare le proprie scelte. Ecco quindi la libertà delle persone di fare le proprie scelte significa anche intanto poterle fare le proprie scelte, per questo io vedo lì di fronte, vorrei ma non posso e dico rispetto a quando è stata fatta la Costituzione e cambiato il mondo rispetto a determinate questioni e ci sono delle persone che sono altro che stabili nelle loro relazioni affettive e che invece non possono per legge poter raggiungere determinati obiettivi che si darebbero o che potrebbero avere in altri paesi, in altre realtà. Diverso è ovviamente, io mi sono convinta di questa, la posizione di chi può e non vuole. Ma anche rispetto a chi può e non vuole, se noi vediamo la fotografia della realtà, vediamo come ci siano famiglie fondate sul matrimonio civile piuttosto che religioso che si separano nel giro di pochissimo tempo, così come ci sono famiglie non fondate sul matrimonio che invece sono stabili e che nella nostra legislazione non trovano non trovano le stesse garanzie, le stesse tutele anche su aspetti che sono importanti come la pensione come la possibilità di avere informazioni per esempio se si va in un ospedale in caso di problemi di salute o cose del genere. Ecco, allora, tutto ciò che si può fare dal punto di vista della scelta, della libera scelta io credo vada sostenuto nel rispetto della libera scelta dalla pubblica amministrazione e soprattutto dal legislatore la pubblica amministrazione, gli enti locali non possono fare delle cose che dovrebbe fare il legislatore Torino nel suo piccolo, ma già all'epoca di lepri assessori aveva revisionato tutti i propri regolamenti per cui non è vero che se non si è sposati in graduatoria ci sono dei punteggi diversi per il nido poi certo se si è più poveri, se si hanno più figli, se c'è un bambino indicappato questo sì però su quello, sui regolamenti per accedere alle case popolari, cioè si è cercato di fare un lavoro che in qualche modo permettesse di non ledere i diritti delle persone peraltro nella scorsa consigliatura, qui c'è con me la collega Domenica Genisio lei era Presidente della Quarta e io Presidente della Commissione Pari Opportunità abbiamo portato avanti il ragionamento anche del registro anagrafico per cui nella città di Torino poi non è questo che fa la differenza il certificato di famiglia anagrafica su vincolo affettivo non è quello che ha modificato la realtà permette però a una persona di non sentirsi calpestata se vuole un certificato dobbiamo fare ancora molto, io credo ci sia un vuoto legislativo credo che così come sta cambiando la società dove una volta si diceva mio fratellastro per dire il figlio, il fratello, la sorella nato da un padre da una madre diversa, oggi questa roba qui ma meno male non si dice più i bambini parlano di fratelli e sorelle e parlano di fratelli e sorelle anche quando si parla dei figli del padre avuti cioè del compagno, del marito, della madre o viceversa che hanno figli avuti da altre relazioni quindi attenzione a che la politica non crei discriminazioni perché un bambino che cresce nell'idea di essere discriminato o perché al nido o nella scuola elementare non si tiene conto del fatto che un bambino che vede mangiare il prosciutto un suo compagno si sente discriminato se non lo può mangiare per vincoli religiosi e quindi io credo che debba essere l'istituzione che impedisce una situazione di discriminazione ma passando a cose ancora più significative un bambino non deve crescere con l'idea di essere diverso se nasce nel matrimonio o al di fuori del matrimonio e dico solo più questo Stefano che potrebbe essere utile non è neanche vero che le coppie omosessuali non hanno figli perché le coppie omosessuali i figli ci sono e le famiglie arcobaleno dimostrano come si può crescere benissimo in ambiti non tradizionali rispetto a quella che è la concezione di alcuni di noi ma io ho tre piccole suggestioni allora la prima è la questione che ho già citato nel precedente intervento è la questione comunque della normativa, della legislazione avere una legislazione rispetto alla prima infanzia che contenga sia tutta una serie di elasticità e di flessibilità nell'impostazione dei servizi perché le rigidità che quella legge figlia degli anni 70 figlia di un modello di società fordista sono profondamente inadeguate hanno portato poi anche nel sistema dei servizi delle rigidità quindi allargare il sistema flessibilizzare e dotarsi di una legge regionale adeguata a questi nostri anni che contempli non solo gli asili nido ma anche tutti questi servizi che citavamo prima di sostegno alla genitorialità mi sembra il passo più importante da fare la seconda suggestione riguarda la sussidiarietà sussidiarietà cioè qual è il ruolo dell'istituzione qual è il ruolo dei soggetti della società civile delle cooperative, dell'associazione di volontariato e della cittadinanza che poi alla fine si organizza anche per risolvere i propri bisogni ecco io penso che anche su questo si debba lavorare molto perché gli enti locali anche la grande città di Torino da soli non ce la fanno più perché tra una spending review e l'altra e le esigenze della collettività che continuano ad aumentare è sotto l'occhio di tutti che il sistema dei servizi così come è impostato non garantisce più non raggiunge tutti oppure raggiunge una cerchia magari facendogli anche un ottimo asilo nido ma il problema sono tutti gli altri che sono fuori sono le liste d'attesa allora da questo punto di vista la domanda come dire di quelle da un milione di dollari si diceva una volta adesso di euro conviene ma conviene ridurre un po' gli standard per dare un po' meno ma a una popolazione più ampia probabilmente c'è questo tipo di discorso ma c'è anche da rilanciare un ruolo diverso dei soggetti della società civile abbiamo assistito negli scorsi mesi a un dibattito francamente non produttivo se i nidi sono della città di Torino sono pubblici se vengono gestiti dalle cooperative diventano privati ecco questo binomio qua non regge perché la cooperazione sociale è un soggetto che è portatore di funzione pubblica e glielo riconosce la legge e poi soprattutto non ha scopo di lucro mentre il privato ce l'ha la cooperativa sociale non ha scopo di lucro il suo obiettivo è pagare gli stipendi benissimo e tutti i costi ovviamente ma soprattutto la cosa che voglio sottolineare in una prospettiva pubblico privato da rilanciare è che la politica come dire il controllo del sistema rimane assolutamente pubblico e questo bisogna dirlo e sfatare il mito che se le cooperative entrano nella gestione dei nidi sono privati e il comune perde il controllo non c'è servizio nell'Italia no a Torino e in Piemonte ma in Italia dove la cooperazione sociale che gestisce ha tolto alla politica il suo ruolo non esiste questa cosa nel nostro paese la politica continua l'istituzione come dire continua a avere il suo ruolo però è una prospettiva da rilanciare perché in tempi di crisi o si mettono insieme le risorse, le professionalità le capacità o se no si rimane al Dio per sé e ciascuno per tutti che non fa crescere nessuno la terza suggestione che riguarda un po' più come dire anche la mia esperienza il mondo da cui provengo è la mutualità cioè sono d'accordissimo sul fatto che debbano rimanere come dire le dotazioni le risorse per il welfare e per i servizi educativi almeno mantenere quello che abbiamo ma nel frattempo dobbiamo anche a mio avviso rilanciare delle altre prospettive mutualità significa anche pensare che chi è portatore di un'esigenza è anche portatore almeno della metà della soluzione di quell'esigenza cioè le famiglie per quanto in difficoltà se vengono sostenute danno delle risposte positive cioè le persone se sono se c'è qualcuno che crede in te tu cresci non so come dire se mi danno un sostegno io risolvo i miei problemi se sono nella solitudine se sono in una situazione dove mi devo vergognare delle mie diversità o della mia situazione particolare ecco allora lì allora lì non cresco allora lì mi isolo e da questo punto di vista non è che puoi pensare a una prospettiva di mutualità dove le famiglie hanno anche un ruolo positivo e propositivo sia immediatamente una dimensione dove costa tanto perché faccio anche leva non solo sulle risorse professionali dell'operatore dello psicologo dell'educatore e quant'altro ma faccio leva anche sulle risorse mie su ciò che io come persona e come famiglia posso mettere in gioco e penso che questa prospettiva che come dire la cooperazione sociale ne ha fatto una sua bandiera una prospettiva di auto mutuo aiuto di solidarietà vada fortemente rilanciata abbiamo esperienze in giro per il Piemonte ma anche su questo territorio dove la risposta è sempre positiva certo apro spazi apro opportunità di esprimersi apro possibilità alle persone di sentirsi in qualche modo accolto e di rendersi conto che forse la diversità poi riconfigurata e ricondotta a dei binari come dire di accoglienza non è poi questa cosa così insurmontabile solo una precisazione per Lucia il problema non è quando due dicono che sono i due il problema è quando uno finge di essere da solo per quanto riguarda gli asili nido perché si dico che sono in due tutto in trasparenza è quando fingo di essere solo che si crea il problema l'altra cosa è anche io vado un po' per sollecitazioni perché chiaramente sono tutti temi molto delicati e molto interessanti sul tema del matrimonio o non matrimonio ecco io voglio dire il dibattito ideologico però bisogna non crearlo perché se io porto ideologicamente avanti delle altre emozioni diventa ideologico il dibattito se invece entriamo nelle relazioni delle persone penso che si possa trovare la soluzione a tutti i problemi e quindi vorrei solo ricordare questo che il diritto per sua natura purtroppo non si occupa di legiferare sui singoli casi ci sono delle cose che non hanno bisogno che il legislatore dica che vanno bene o non vanno bene ci sono il legislatore può non promuoverle non dargli la stessa dignità possiamo risolvere i problemi del vorrei ma non posso chiedendogli cosa vorresti se tu vuoi coronare il tuo sogno d'amore paradossalmente il tuo sogno d'amore si chiama matrimonio allora siamo a un problema lessicale però non confonderei il matrimonio costituzionale con il problema lessicale di chi vuole vedere coronato in qualche modo riconosciuto forse dico perché a questo punto è un problema di posso chiamarmi sposato se invece ci sono delle cose vere come immagino ci sono e condivido le cose che hai detto tu bisogna affrontarle e vedere di risolverle ma è tutta un'altra cosa che fare un unico mischio e poi in questa società che esalta le differenze vogliamo tutti essere omologati invece forse dovremmo imparare proprio a convivere con le differenze e tra virgolette essere esagero un termine lo prendo a prestito orgogliosi delle differenze nel senso che la differenza è quello che mi rende unico e devo imparare a stare insieme con le differenze piuttosto che cercare di essere tutti uguali quindi ci chiamiamo tutti i matrimoni nessuno mangia il prosciutto certo che non è quello che volevi dire tu come esempio dice benissimo c'è il bambino musulmano c'è il bambino cristiano c'è il bambino che perché nella sua famiglia non si crede niente non crede niente dobbiamo tenderle insieme e comporre le differenze e sul tema della politica vorrei ricordare una cosa mi viene sempre un po' il retrogusto io non sono di fedele cooperativa quindi magari lo dico anche male ma non fraintendetemi cioè diciamo la politica sulle cose concrete deve imparare a fare un passo indietro cioè non deve occuparsi di tutto quello che succede nel mondo e le cose di asili nido coinvolgere le famiglie sono cose che nascono dal basso non si impongono dall'alto allora vuol dire che cosa vuol dire esattamente quello diceva sono emozionato Guido quello che diceva Guido cioè mettere a disposizione se non ci sono spazi perché le famiglie possono auto-organizzarsi possono recuperare il loro ruolo allora l'asilo nido gestito dalla cooperativa dove magari c'è anche un discorso un po' più ampio che di accoglienza di ragionamenti di capire magari di metterti in contatto con altri genitori ecco può essere un'occasione da sfruttare allora sì che realizziamo quello diceva Garbarino cioè non è che ti chiediamo di partecipare perché adesso non abbiamo più i soldi e quindi ci devi dare una mano che sarebbe una cosa veramente brutta ma ti diamo un'occasione per poter esercitare fino in fondo il tuo ruolo che ti riconosco rispettando proprio il principio della sussidiarietà e mutualità che veniva indicato prima sono cose che però richiedono tempo cioè noi non possiamo realizzare questi passaggi nei cinque anni di una legislatura e per la legislatura ora dopo si cambia perché abbiamo altre valutazioni politiche sulle quali non si chiede il voto perché uno non va al voto dicendo come voglio la scuola come voglio la cultura come voglio dicendo io sono di tizio io sono di caio e tre quarti dei voti avvengono perché io ti tolgo lì scusate non volevo dire no però se si tocca il portafoglio tutti ti votano allora dobbiamo fare in modo che la politica diciamo trovi un terreno comune un luogo comune una condivisione indipendentemente dallo schieramento su cui poter fondare delle politiche durature nel tempo perché una politica familiare in Francia è nata nel 1900 ed ha camminato qui indipendentemente da chi fosse al governo ma perché è nata dal basso e gli altri non hanno dovuto fare altro che rispettarla a livello locale secondo me oltre a questo diciamo assumersi più un ruolo di controllore di linee guida quindi sì il pensatoio perché è importante che ci sia un luogo in cui la politica eletta dai cittadini conservi il ruolo di controllo però lasciare spazio fare crescere cioè mettersi davvero in un'ottica di sussidiarietà dare ascolto che questo rilancia anche un po' il fatto che noi oggi se uno ha un problema deve andare dal comune per qualunque cosa succeda deve andare dal comune invece dice ok andare dal comune ma tu ci hai già pensato cosa potrebbe servirti cosa potrebbe esserti utile cioè stai uscendo da una logica assistenzialistica e ti fai un po' promotore cioè il famoso stai imparando a pescare sei sempre lì che aspetti che qualcuno ti dia la torta pronta e stai imparando a fare un po' il pasticcero a trovarti un po' le soluzioni per conto tuo ultima sottolineatura vedo la faccia di Stefano che modera ultima sottolineatura non dobbiamo aspettare che a livello nazionale il fisco faccia delle modifiche perché a livello di ISEE ci sono degli esempi che adesso sono tristemente famosi tipo il quaziente Parma e tristemente perché la giunta è finita malissimo dove però è stato fatto uno studio per fare in modo che l'ISEE non vada a scalini per cui oggi se io ho 101 euro di reddito ho meno risorse di un uomo che ne ha 100 peccato che come mi pago quel ticket io ne ho 99 e lui continua a averne 100 qui io divento poi più povero di lui quindi cercare di andare in misura lineare e non a scaglioni come in qualche modo ci obbliga l'ISEE e su questo come forum siamo disponibili a collaborare a livello nazionale ma forse anche a livello locale la proposta forum tra il quaziente familiare che effettivamente dividendo i redditi applicando a tutti l'aliquota più bassa può favorire diciamo non rispetta un po' il principio di solidarietà e di corresponsabilità c'è il fattore famiglia che invece genera una no tax area per cui in qualche modo diciamo rende più equilibrato il sistema e favorisce effettivamente le famiglie che hanno meno reddito e addirittura si pensa ci devono essere proposte di legge per favorire gli incapienti cioè quelli che non hanno i soldi per pagare le tasse ma con appunto riconoscendo i carichi familiari avrebbero bisogno dei soldi traducendo in uno slogan ci piacerebbe che la politica prima non ci rendesse poveri togliendoci le tasse e poi vedesse chi può restituire i soldi attraverso dei benefici e quindi un po' il messaggio finale parliamoci la politica ha un ruolo importantissimo ma deve essere una politica che rinasce dal basso che ritrova nel territorio le ragioni del suo esistere e qui non lo dico come forum lo dico come cittadino Luigi Lombardi che mi dia la possibilità di scegliere chi voglia leggere non ci siano liste bloccate e forse sarebbe bello che i dibattiti che ci sono all'interno io conosco tanti politici e tanti hanno passione per le cose che fanno quando poi guardiamo la televisione o leggiamo i giornali dei politici vediamo solo che tizio ha detto questo che però è arrabbiato con Caio e così via questo non so se è un'accusa ai politici che forse non riescono a far comunicare a far parlare i giornali delle cose che vogliono realizzare quindi nella concretezza delle cose e si finisce sempre solo per parlare di pettegolezzi ultima battuta non so chi fa la domanda ma ridurre il numero dei parlamentari a 300 era così difficile? Possiamo fare un bel applauso ai quattro perché poi credo sono stati molto bravi io chiedo per i quattro ultimo giro così poi concludiamo per quarta alle otto al massimo perché poi tra l'altro questi fumi profumi più che fumi ci attirano allora l'ultima riflessione l'ultimo giro di confronto lo vorrei fare su questo tema abbiamo detto proviamo a capire come si possono aiutare le famiglie dando sollievo senza sollevarli c'è un'altra sfida che alcuni interventi hanno già in qualche modo anticipato e introdotto che è quella dell'aiuto tra famiglie cioè le famiglie non solo possono essere aiutate in tanti modi a ragione Gigi Lombardi ci siamo dimenticati del modo attraverso cui la fiscalità locale può aiutare le famiglie io prima non l'ho ricordato ma diciamo se avessimo i quattrini potremmo dire per esempio che il secondo o il terzo bambino iscritto all'asilo nido paga il 50% della retta poi magari lo valutiamo a seconda del reddito complessivo del nucleo familiare però ecco questo vuol dire introdurre anche una sorta di quotiente familiare o come diavolo vogliamo chiamarlo anche a livello locale ma insomma a parte sì non è proprio così comunque ho fatto questo esempio per dire che bisognerebbe riflettere di più sul tema anche della fiscalità locale ma torniamo all'ultima questione cioè come le famiglie possono essere aiutate dandosi l'un l'altra un aiuto quindi in altri termini le forme di associazionismo familiare e le forme attraverso cui le famiglie sono coinvolte nel processo di erogazione dei servizi loro rivolti che è già in qualche modo stato anticipato da Garbarini quando ha detto nel dopoguerra le famiglie emiliane si sono le mamme emiliane sono inventate gli asili nido e quando Geninati diceva introduciamo nuove forme di mutualità all'interno dei servizi per la prima infanzia io ogni tanto ho scritto alcuni miei modesti pensieri e cito e ho citato in questi articoli l'esperienza delle cooperative sociali della Svezia della Scandinavia dove non si chiamano cooperative sociali comunque sono cooperative di mutualità tra tra genitori dove il sistema di erogazione è un sistema misto dove quindi vi sono dei lavoratori in modo particolare quelli chiamati allo svolgimento delle attività educative quelle più diciamo più robuste e anche più delicate e per tuttavia i genitori collaborano in modo non solo diciamo monetario attraverso quindi il pagamento della tariffa ma collaborano in modo diverso a seconda della loro disponibilità nel sistema di erogazione ad esempio aiutando in cucina tenendo pulito i locali tenendo in ordine il giardino accompagnando i bambini se ne hanno le caratteristiche e raccogliendo insomma magari attraverso la loro macchina anche i bambini che non possono essere accompagnati a scuola eccetera eccetera quindi le questioni su cui vorrei sollecitarvi e so che Garbarini insomma ci ha lavorato ci sta lavorando su questo tema che però è un tema che diciamo ha bisogno come ben ricordava anche Geninati di un riconoscimento legislativo perché se non c'è questa possibilità al massimo si riducono sperimentazioni spesso anche diciamo criticate in assenza di legge allora questo tema però mi sembra rilevante cioè le famiglie possono tra di loro aiutarsi nel tema dell'associazionismo familiare quello per cui vi è un associazionismo tra famiglie tra virgolette normali dove il tema è ci troviamo per magari prendendo il tè al pomeriggio per cominciare a conoscerci e poi da lì nascono le questioni le sfide le forme anche di aiuto per cui le mamme si gemellano e a turno si portano i bambini a scuola e da lì nascono tante altre forme di mutualità c'è un associazionismo familiare più complicato e impegnativo che quello per esempio tra famiglie che hanno chiamiamolo un problema o una sfida un figlio con una disabilità o un figlio con un problema di tossicodipendenza ecco che allora queste forme di associazionismo di mutuo aiuto si rivelano assolutamente decisive in molti casi per rendere meno gravoso per risolvere quella questione e c'è una forma di associazionismo all'interno dei servizi più strutturati come sono gli asidi e le scuole materne i nidi o altre forme informali o meno formali del sistema educativo dove le famiglie credo dovrebbero più di oggi essere coinvolte non solo perché questo è un modo attraverso cui si possono risparmiare dei quattrini ma anche perché nella misura in cui sono coinvolte in qualche modo diventano maggiormente responsabili capiscono il valore del servizio di cui possono beneficiare e in qualche modo insomma sono più cittadini cittadini ripeto non semplicemente fruitori opportunamente fruitori in alcuni casi proprio perché la famiglia non può essere diciamo abbandonata ma sono cittadini anche perché contribuiscono a un pezzo del sistema di protezione sociale in questo particolare segmento alla realizzazione di un sistema educativo più partecipato vi solleciterei nell'ultimo giro di non più di 5 minuti a esemplificare un po' queste sfide che ho provato a introdurre perché mi pare questo è un tema su cui abbiamo molto da lavorare Garbarini diciamo che su questi esempi che definirei di cittadinanza attiva in qualche modo il comune ha già dato anche negli anni scorsi degli esempi di possibile l'attuazione ricordo solo due o tre esempi perché servono sostanzialmente a cogliere la questione Torino per esempio alcuni anni fa grazie ai fondi della 285 che ricordava prima Lucia avviò la sperimentazione dei micronidi familiari una forma di auto mutuo aiuto tra mamme per cui una mamma teneva i figli di altre mamme fino a altre famiglie ovviamente fino a 4 o 5 al massimo che era un modo di integrazione di aiutarsi nei momenti del bisogno all'interno di caseggiate all'interno di situazioni peraltro inventando Torino il modello e forzando anche la norma regionale tant'è che poi qualcuno si ricorderà sicuramente Stefano si ricorderà eccetera questo modello dei micronidi familiari fu poi surrogato dalla regione con una delibera di giunta regionale che diceva anche se la legge regionale non lo dice accettiamo questo modello proposto dalla città di Torino quindi c'è anche un problema di fondo che è quello appunto come è già stato detto di avere delle normative che in qualche modo permettano di andare oltre quello che è l'attuale organizzazione della gestione dei servizi se io avessi una ispezione dell'asl durante una normale attività di asili nido mi trova le mamme dentro mi chiude il nido e io forse vado in galera quasi insomma ecco quindi c'è il problema di adeguare e quindi può essere anche uno sforzo per riprendere quanto ci chiedeva anche Stefano Lepri nel giro di prima può essere anche uno sforzo che trovi a livello regionale delle soluzioni non c'è bisogno di aspettare che sia lo Stato a dirci che le mamme adesso scusate se banalizzo così che le mamme possono stare dentro un nido ma forse ce lo può dire la regione e darci delle normative che in qualche modo ci permettono di arrivare a questa cosa ricordo per esempio che a Torino dei genitori hanno più volte avuto interventi direttamente sulle strutture penso ai casi che ogni tanto vanno a finire sui giornali dei genitori che dipingono e danno il bianco alle scuole ma noi ad esempio abbiamo autorizzato usando una norma che era passata a livello di un disegno legge poi diventata legge se lo ha dimenticato quasi tutti di Tremonti che forse gli era scappato in quel momento lì che permette a associazione anche di genitori di formulare una richiesta per fare degli interventi strutturati nei confronti di aree e di beni immobili del comune per cui noi abbiamo avuto dei genitori che si sono associati e che raccogliendo tra l'altro dei fondi loro direttamente hanno rimesso a posto un intero giardino di una scuola e quindi appropriandosene facendo gli interventi essendo autorizzati dall'edilizia scolastica con tutte le autorizzazioni del caso ma aggiungendo una scuola che noi con molta difficoltà avremmo risolto il problema e invece facendo in modo che quella scuola nel giro di sei mesi avesse un giardino assolutamente idoneo per i ragazzi e le ragazze che le frequentavano e per esempio ricordo altro caso che mi interessa sottolineare l'associazione dei genitori della scuola di infanzia di Viacecchi che è un'associazione mista mista scusatemi il termine dove abbiamo genitori italiani ma anche cosiddetti estracomunitari o comunque che non hanno avuto come dire natalità italiana che si sono creati in associazione che in convenzione con la stessa scuola comunale hanno avuto in gestione l'area verde della scuola interna per cui il sabato e le domeniche questo diventa uno spazio pubblico autogestito dai genitori sotto controllo del comune ovviamente però voglio dire autogestito che in qualche modo si apre quartiere o quei genitori che ultimamente anch'essi sotto forma associativa organizzano i famosi percorsi di pedibus cioè i bambini che anziché usare e arrivare con la macchina davanti alla scuola si raccolgono in alcune aree in alcuni spazi della città e poi vengono accompagnati attraverso un percorso a piede allora questi esempi ci sono e la città l'ha già sperimentato non a caso insomma io credo che si continua a dire che Torino è un modello in qualche modo a livello di elaborazione educativa ancora oggi a livello nazionale quindi questi modelli ci sono ribadisco abbiamo bisogno lo dicevate prima lo si diceva prima abbiamo bisogno che in qualche modo la normativa regionale cambi almeno quella regionale cambi per diventare uno strumento che ci permetta in qualche modo di adeguarci a queste cose e di far sì che non ci blocchiamo laddove poi si elaborano e si pensano dei percorsi edifici almeno questo lascio da parte il problema della fiscalità del reddito eccetera vorrei solo ribadire che io ho una convinzione e lo dico il partito democratico se andrà al governo quello che è io credo che comunque uno stato debba darsi almeno delle priorità su cui come dire indica il proprio segno politico di sviluppo e lo sviluppo educativo della conoscenza credo che debba essere per forza una priorità allora spendere soldi in questo campo non vuol dire di per sé scialacquare vuol dire però mettere a disposizione delle risorse strudiando poi i metodi e le forme con cui possono essere gestite contrattate controllate ma vuol dire mettere delle risorse opportune per favorire uno sviluppo ricordo prima citava sempre Lucio quella ricerca americana ricordo che l'unione europea l'anno scorso ha fatto uscire non è ancora una direttiva ma un indirizzo dove dice espressamente che l'investimento nello 0-3 è un investimento fondamentale per lo sviluppo dei saperi e delle conoscenze della società ma è anche uno sviluppo per evitare appunto quelle ricadute in termini poi di welfare d'assistenza che può succedere possono succedere negli anni successivi certo è un investimento che si fa oggi e paga fra 10 anni fra 15 anni ma la stessa unione europea gli stessi economisti europei hanno ormai calcolato che un euro oggi investito nello 0-3 produce un risparmio che va dai 7 ai 10 euro rispetto agli investimenti allora uno Stato può anche pensare che investendone uno ne risparmia 10 e forse in termini di contabilità economica generale può servire anche questo ma io ho un sogno che in questa città e ovviamente non solo in questa città ogni bambino ogni bambina che nasce possa avere il futuro migliore per sé quindi se ha dei talenti che questo talento possa essere intercettato valorizzato e quindi se nel campo nomadi di lungo Stura Lazio c'è un bambino che potrebbe diventare come quel ragazzo inglese che a 18 anni ha inaugurato Mito alla Scala peraltro avendo già anche composto delle musiche questo possa avvenire anche per un bimbo nomade per un bimbo povero e non necessariamente per chi nasce in un ambiente familiare ricco dal punto di vista culturale dal punto di vista economico e così via quindi io pongo soprattutto un problema di equità sul quale noi come amministratori dovremmo sempre di più intervenire sono assolutamente favorevole a tutte le forme di partecipazione quelle previste anche dalla Costituzione in primis il partito se non dedicherei molto del mio tempo all'attività all'attività politica e tantissimi cittadini tantissime cittadine continuano a credere nella politica al di là del clima che c'è quindi io credo che l'associazionismo è estremamente importante attenzione però una cosa è la partecipazione una cosa è sostituire soprattutto in un campo come quello dei servizi alla persona che sono anche settori di grande potere economico di grande impegno occupazionale e quindi io dividerei il mondo del volontariato il mondo dell'esperienza di cittadinanza attiva dagli aspetti invece più di costruzione del servizio per vari motivi uno perché io come mamma se avessi avuto più tempo quando lavoravo e avevo i bambini al nido avrei voluto stare tanto di più con i miei bambini piuttosto che andare in cucina a pelare patate o costruire un dolore ecco no allo stesso modo tutto ciò che è riconducibile in termini pedagogici a qualcosa che serve io sono perché si faccia cioè una scuola più aperta dal nido all'elementare e così via dove ci possono essere momenti di confronto con i genitori attività comuni con i genitori che portino anche a costruire delle cose e delle esperienze io sono assolutamente d'accordo ma in questa città e in questo paese dove molti vivono ancora soprattutto nel resto del paese con la pensione dell'anziano in casa perché si sta in molti casi tornando in ambienti così dove il reddito familiare è talmente basso e quindi si pensa di poter avere l'unica fonte di reddito sicuro per cui prima dicevano qualcuno pensa di non mandare più i bambini al nido perché costa qualcuno pensa di poter vivere così ci sono dei quartieri della città dove questi dati sono presenti allora facciamola questa analisi proviamo a capire che io sono molto favorevole al fatto che le cooperative si inseriscano in tutti i campi perché so qual è la professionalità so che cosa ha significato per esempio nel campo dei servizi sociali l'accreditamento il lavoro fatto anche con Stefano assessore al comune di Torino per cui noi sappiamo che cosa offriamo abbiamo circa l'ottanta per cento dei servizi in accreditamento cosa che non abbiamo invece per l'infanzia per ecco dopo di che non ci dobbiamo innamorare di principi ideologici o di modelli noi dobbiamo avere una governance forte dal punto di vista pubblico dove il sistema dei controlli è sicuramente un sistema forte dove il bambino che va dal nido comunale o che va al nido gestito della cooperativa o dal nido aziendale deve avere gli stessi standard di qualità attenzione a quelle forme che ci sembra possano risolvere i problemi e che invece sono forme che rischiano di cambiare completamente un sistema che funziona e che sostituiscano esperienze molto positive ecco quindi su questo credo che si debba essere molto molto attenti sia la partecipazione al controllo non a forme di sostituzione nel campo dei servizi alla persona che sia in ospedale dove i volontari dell'AVO e di molte associazioni fanno delle cose meravigliose ma le fanno se sono nell'ambito del volontariato se si usano i volontari per far fare il lavoro che devono fare gli infermieri i medici piuttosto che altri è un'altra cosa fino ad arrivare allo sfruttamento laddove si usano persone che hanno il titolo e che non vengono assunte che fanno il lavoro che dovrebbero fare altri grazie grazie Lucia ma dunque mi vengono in mente molte cose sicuramente abbiamo due come dire due versanti opposti da un lato il fatto che stiamo di fronte comunque ad una rigidità del sistema dei servizi se vogliamo prendere il nido come esempio dall'altra parte non possiamo andare a una destrutturazione come diceva Lucia Centillo prima e diceva vabbè anche gli ospedali li gestiamo con il volontariato è evidente ma lì in mezzo ma lì in mezzo ed è questo il ragionamento che dobbiamo fare ci sono probabilmente tra questo bianco e questo nero delle scale di grigio percorribili e queste scale di grigio è difficile poi declinarle perché mi sono segnato due cose cioè c'è un problema di fiducia se io lascio il bambino all'educatore del nido istituzionalizzato del di cooperativo o di comune o di chi che sia però come dire c'è un'impostazione per cui io di default mi fido e se succede qualcosa chiedo conto poi però posso anche lasciarlo in una famiglia dove si fa l'esperienza dei micronidi che tra l'altro dei nidi in famiglia chiedo scuso che tra l'altro non ha preso così piede anche per problemi di normativa ma lì che cosa succede che io mi devo fidare di quelle altre due tre quattro mamme che portano il bambino lì insieme a me cioè io con queste mamme qua io mamma io papà con queste altre famiglie faccio un patto di fiducia fortissimo e da questo punto di vista allora il processo è un processo dal basso perché alla fine io presento anche l'esperienza faccio un altro esempio dei gruppi di acquisto solidale io faccio parte di un gruppo di acquisto solidale e a un certo punto siamo una ventina di famiglie dove i processi fiduciari ci si fida allora significa che c'è un forte scambio ma io ho un paio di sci di mio figlio servono tuo figlio che il mio non li usa più eccetera ed è tutto molto molto positivo una sera il dibattito è stato no però non basta più incontrarsi in casa dobbiamo chiedere al comune la sede così aggreghiamo altre famiglie il gruppo si allarga il dibattito è stato molto bello quel dibattito è stato ma divisi a metà diciamo così qualcuno che dice no calma e gesso cosa diventa sta roba me la stai istituzionalizzando no a me piace trovo piacevolezza senso senso nello stare con questi che conosco che magari ci siamo anche conosciuti da poco ma abbiamo costruito delle cose insieme se mi diventa una roba istituzionale io non non mi interessa più ecco io penso che le scale di grigio che dicevo vadano trovate qui in mezzo ma attenzione qui in mezzo ne abbiamo tantissime perché nella come dire nella rigidità che vede l'operatore istituzionale professionalizzato e quant'altro abbiamo anche un po' esagero giusto per provocare e provocarci un po' abbiamo un po' anche il mito che io sono l'operatore e quindi il depositario della cultura e ci mancherebbe altro se hai pagato per quello e non riconosco però a te genitore questo potere ecco lì in mezzo c'è tanto da lavorare perché apprendo anche solo un pochettino i nostri nidi di cooperativa o di comune che siano e cercando di dare un po' di queste competenze a quei genitori io penso che non facciamo una cosa negativa per quei bambini diamo un sostegno a quei genitori a imparare ogni giorno perché non si nasce imparati scusate la battuta a fare il genitore quindi gli diamo degli strumenti che sono strumenti educativi psicologici di lettura anche delle dinamiche facciamo un po' di formazione ecco io penso che questo stia tutta dentro la scala di grigi senza far sì che i genitori che vanno a dipingere l'asilo poi vengono arrestati dalla commissione di vigilanza che adesso arresta anche i genitori scherzo grazie Guido solo una battuta vorrei anche io dire un sogno che condivido il sogno di Lucia io non so se ci rendiamo conto che qui stiamo dicendo delle cose posso usare il termine rivoluzionari o perlomeno controcorrente stiamo dicendo di rimettere la persona al centro stiamo dicendo di tenere presenti i talenti delle singole persone senza guardare quanto ci renderanno ma dove si fanno più questi discorsi quando noi guardiamo sentiamo solo oggi leggiamo solo più dello spread non leggiamo più le storie delle famiglie delle persone allora rimettere la persona al centro non è solo un fatto politico è anche un fatto culturale un fatto culturale mi fa scattare un po' questa molla cioè oggi uno è il genitore del suo cucciolo se invece noi le cose che stiamo dicendo richiedono che quando io divento papà e mamma mi divento e quindi guardo l'altro figlio quello che picchi a mio figlio a scuola non come quello che sarebbe meglio che la scuola spellesse dalla scuola ma come un mio figlio dice ma se questo fosse tuo figlio cosa faresti ecco allora lì si potrebbe riaggregare questo è un lavoro su cui l'associazionismo chiaramente può dare una grossa mano perché si aiuta si scambia già solidarietà si fa esperienze di solidarietà ed è per questo che ritengo che sia fondamentale far ripartire queste cose dal basso perché ricredono quel tessuto diciamo di vicinato di quotidiano normale che avvicina le persone mi raccontava oggi un collega che ha cinque figli ha solo un problema che i primi due gemelli gli sono nati tre anni fa gli altri tre gemelli gli sono nati l'anno scorso quindi quando si muove è un bel piacere sono andati in vacanza e saranno i bambini sarà la simpatia sarà il numero sarà la pena non lo so si è creato subito un buon vicinato e la vicina mai visti prima ci andavamo in vacanza anche lì ma buongiorno buonasera ah ciao buongiorno buonasera allora ti prendo Marco viene con me a fare colazione ecco sulle cose poi concrete sulle relazioni può rinascere forse ridare questi spazi all'interno anche delle scuole può aiutare a far rinascere nella concretezza poi delle cose perché alla fine siamo tutti di corsa stressati oppure tutti preoccupati e non troviamo forse neanche il tempo di queste relazioni invece sfruttando gli spazi scuola i luoghi d'incontro possiamo fare qualcosa e da questo punto di vista riprendo un concetto che abbiamo cercato di sviluppare già quando abbiamo parlato dei piani di zona del comune di Torino c'è una fame di informazione e poi le cose che diceva Garbarino sono bellissime utilissime come facciamo a diffonderle a farle conoscere allora io poi vediamo vediamo come fare perché chiaramente tramite l'associazionismo è anche facile insomma puoi almeno raggiungere le famiglie delle associazioni dice guarda se avete la scuola vedete che il giardino non si va davvero in galera se ti organizzi in un certo modo se fai certi passi si danno le istruzioni operative forse riusciamo a ricreare quello lavorare insieme quello stare insieme sulle cose che poi è quello che ci aiuta a creare davvero la società che sogniamo la società un po' migliore più umana più solidale dove ci si prende davvero cura dell'altro a partire da chi ha più bisogno grazie non mi sogno minimamente di fare né sintesi né conclusioni quindi direi che abbiamo fatto un bel lavoro un bel dibattito ringrazio tutti ringrazio soprattutto voi che ci avete sopportato e ascoltato con molta attenzione e vi rinvio ai prossimi dibatti a cominciare da quello di stasera delle prossime settimane dei prossimi giorni grazie a tutti grazie